A distanza di un anno è stato ritrovato il corpo senza vita di Brunella Chiou, 56enne di Barbara, tredicesima e ultima vittima della terrificante alluvione che il 15 settembre del 2022 mise in ginocchio il territorio senigalliese. Questa mattina il gruppo carabinieri forestale Nipaf di L'Aquila ha infatti informato il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, del provvedimento emesso dalla procura della Repubblica dell'Aquila con il quale si comunicava l'avvenuto ritrovamento del cadavere di Brunella dispersa dal 15 settembre data in cui fu trascinata via dalla potenza dell'esondazione del fiume Nevola mentre era assieme alla figlia 17enne Noemi Bartolucci poi trovata senza vita e del figlio Simone di 23 anni che si salvò miracolosamente aggrappandosi ad un albero. Il ritrovamento del corpo di Brunella è avvenuto ieri nelle acque antistanti le isole Tremiti ed è attualmente sepolto al cimitero di Vieste. Un ritrovamento avvenuto dopo mesi di ricerche incessanti. Alla regione Marche è stata fatta pervenire anche copia degli accertamenti esperiti dai carabinieri RIS di Roma con i quali si attesta la compatibilità nella comparazione del DNA.